Il Napoli parteciperà alla Supercoppa contro la Juventus in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. Lo scrive il club partenopeo in un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet che oltre ad annunciare la partecipazione all'incontro con i bianconeri vuole confermare la notizia della proposta non accolta della società e spiegarne le motivazioni. Il presidente Aurelio De Laurenti si aveva chiesto uno spostamento della partita a fine campionato o in una data eventualmente disponibile in primavera per una serie di motivi di grande ragionevolezza, ma si è sempre trattato di una proposta. Se la partita si fosse disputata in primavera ci sarebbe stata la speranza di aprire anche parzialmente al pubblico. Inoltre la proposta era rivolta a cercare maggiori fondi dalle autorità regionali statali e da sponsor diversi per raccogliere una cifra importante da devolvere alla ricerca contro il Covid-19. Così recita la nota che poi conclude il Napoli prende atto che questa richiesta non sia stata accettata e sarà presente mercoledì a Reggio Emilia per contendere la Supercoppa alla Juventus. Ancora dubbi attorno al futuro di Arkadius Milik. Fabrizio De Vecchi, uno degli agenti dell'attaccante polacco, ha parlato al quotidiano spagnolo AS spiegando che la trattativa con l'Atletico Madrid si è interrotta per via della richiesta troppo alta fatta dal Napoli. Soldi che i colcioneros non possono spendere in questo momento. L'agenzia sottolinea come lo stesso problema riguardi i club di Premier e il Marsiglia che erano interessati a Milik. Non si esclude un ritorno di Roma e Juventus, ma De Vecchi spiega a volte ho quasi la sensazione che il Napoli preferisca lasciarlo in tribuna e perderlo a parametro zero. Dopo essersi affrontati in campionato, Juventus e Sassuolo si ritrovano ora negli uffici per parlare di calcio mercato. I bianconeri sono infatti interessati a due giovani degli emiliani, Gianluca Scamacca e Manuel Locatelli. Per l'attaccante attualmente in prestito al Genoa, la trattativa è ben avviata. Il Sassuolo è disposto anche ad un prestito di 18 mesi, ma con un riscato sicuro per una cifra tra i 20 e i 22 milioni. La Juve potrebbe abbattere il prezzo inserendo qualche contropartita tecnica. Per quanto invece riguarda Locatelli, l'obiettivo è intavolare una trattativa che andrà poi chiusa al termine della stagione. Luciano Spalletti potrebbe presto tornare su una panchina, per la precisione su quella della nazionale cilina. La federazione sud-domenicana sta cercando il sostituto di Reinaldo Rueda, ormai prossimo all'addio? E secondo i media locali, tra i candidati ci sarebbe anche il tecnico sotto contratto con l'Inter, ma attualmente fermo da un anno e mezzo, che da parte sua si sarebbe detto interessato all'incarico. Un trasferimento di questo tipo però comporterebbe diversi problemi, primo tra tutti quello legato alle difficoltà linguistiche, visto che Spalletti non parla spagnolo. Inoltre il contratto dell'allenatore con l'Inter scadrà a giugno 2021 e fino ad allora perciperà 4 milioni e mezzo di euro. È una cifra non indifferente che potrebbe rendere l'ingaggio il nodo più importante di tutta la trattativa, nonché il più complicato da sciogliere.